Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video della serie Affitti Brevi in 30 giorni. Sono Ludovico Cianchetta Vasquez, fondatore di B&B Academy, l'accademia di affitti brevi più grande d'Europa e oggi parleremo di social proof, ovvero prova sociale per Airbnb e Booking. Che cos'è, come si ottiene, quali sono i vantaggi, a che cosa stare attenti. Partiamo dal tecnicismo social proof, che tradotto in italiano è letteralmente prova sociale, ovvero quel qualcosa, quella prova appunto, che mi permette di stare tranquillo quando magari faccio un determinato acquisto o una determinata scelta. Su Airbnb e Booking la social proof non ha nient'altro che le recensioni che abbiamo ottenuto da parte degli ospiti che hanno soggiornato nel nostro immobile. Quando magari vado a comprare un'auto, la social proof è il test su YouTube della persona che ha guidato quell'auto e che mi dice che funziona molto bene. Quando scelgo una crema, magari il fatto che ci sia un determinato testimonial o ancora una volta delle valutazioni positive su una rivista di settore, su Airbnb non sono nient'altro che le recensioni che ci lasciano gli ospiti. Si può avere anche una social proof da parte dei proprietari di casa con i quali lavoriamo per acquisire più facilmente, quindi chiedo delle recensioni, chiedo delle videotestimonianze ai proprietari di casa per convincere altri proprietari a darmi in gestione il loro immobile. Quindi Maria, che mi è andato in gestione casa sua, mi fa un video di 5 minuti dove dice che con me si è trovata molto bene e che effettivamente guadagna di più. E grazie a questa social proof io acquisisco più case. Oppure su Airbnb chiedo a chi ha soggiornato appunto di lasciarmi 5 stelle su Airbnb, io ho 10 punti su Booking per dimostrare ad altri potenziali clienti che soggiornando nel mio immobile avranno un'ottima esperienza e questo non accadrà perché l'ho detto io, ma perché l'hanno detto altre persone che precedentemente hanno già fatto questo tipo di scelta e hanno già ottenuto un feedback, chiamiamolo così, positivo. Come ho anticipato poco fa, le scale di valutazione sulle due piattaforme principali con le quali lavoriamo, come Airbnb e Booking, sono diverse. Infatti su Airbnb abbiamo un sistema di valutazione a stelle che va da 1 a 5 dove l'unica valutazione realmente positiva è 5 stelle. Diciamo che 4 sono accettabili, 3, 2 o 1 sono un risultato pessimo. Mentre su Booking abbiamo un sistema di punteggio che va da 1 a 10 dove ovviamente 10 è il massimo al quale possiamo ambire. Diciamo che 8, 9 è un ottimo punteggio, 7 è accettabile sotto il 7 quindi 6, 5, 4, 3, 2, 1 è una valutazione negativa. Quindi dobbiamo sempre ambire al massimo su entrambe le piattaforme. Sono molto importanti queste valutazioni perché la prima cosa che fa un ospite prima ancora di entrare nel nostro annuncio è vedere da fuori la valutazione. Infatti sia Airbnb che Booking esternamente fanno vedere la valutazione di un annuncio. Oltre al fatto che da fuori se una persona vede una valutazione negativa non apre nemmeno l'annuncio sono le piattaforme stesse che non spingono annunci che hanno delle valutazioni negative. Sarebbe controproducente per Airbnb ad esempio mostrare per primo una struttura con delle valutazioni negative. O la stessa Booking non spinge ovviamente una struttura ricettiva che ha 3, 4 o 5 di media quando ce ne sono tantissime che magari hanno 8 o 9. Gli stessi filtri di Booking e Airbnb ti suggeriscono voglio vedere solo strutture con una valutazione dall'otto in su oppure voglio vedere solo i superhost che è uno status che concede Airbnb solo a coloro che hanno una media di recensioni molto alta. Quindi vi rendete conto che sia lato piattaforme sia lato proprio potenziali clienti è importantissimo avere delle recensioni positive per farsi di essere sempre al massimo livello ed essere al massimo livello significa guadagnare molto denaro perché noi siamo qui per guadagnare denaro non per la gloria. Oltre al punteggio numerico però è importante anche ciò che scrivono le persone perché una persona potrebbe anche lasciarti 5 stelle e poi scrivere testualmente nella recensione che però c'erano gli scarafaggi in casa quindi non devi basarti solo ed esclusivamente sul numero che letteralmente ti viene lasciato ma anche su che cosa c'è scritto all'interno della recensione. Ma le recensioni non devono fungere solo ed esclusivamente da apripista per nuovi potenziali clienti ma anche come tuo feedback personale per migliorarti e migliorare la tua struttura perché una persona ti può anche lasciare una recensione a 5 stelle pubblicamente scrivere che va tutto benissimo e poi in privato lasciarti un feedback dove ad esempio ti suggerisce di pulire il filtro dell'aria condizionata perché era molto sporco. Tu potresti benissimo ignorare questo feedback che ti è stato dato, questo suggerimento ma la prossima volta rischierai ancora una volta che un qualcuno ti segnali questa cosa magari lasciandoti una recensione negativa. Quindi al di là di quello che traspare da fuori è importante che tu prendi tutti questi feedback e queste recensioni per migliorare te stesso come property manager il tuo operato e le tue strutture ricettive. Dunque abbiamo visto quanto è importante e rilevante avere delle valutazioni positive ma come possiamo poi effettivamente andare a richiedere questo tipo di recensioni? Questo perché se ci aspettiamo che un ospite rilasci in autonomia una recensione beh sappiate che accade molto sporadicamente. è infatti statisticamente provato che una persona rilascia una recensione in completa autonomia per lo più se l'esperienza è negativa. Della serie una persona si è trovata bene magari non te la lascia la recensione perché trovarsi bene dovrebbe essere la normalità. Al contrario la stessa persona si è trovata male non vedrà l'ora di lasciarti una recensione negativa per bastonarti. Ed ecco perché dobbiamo creare degli incentivi per lasciarci una recensione positiva. ovvero creare un'attività che attiri queste recensioni positive. Fortunatamente Airbnb ed altri software ci permettono di automatizzare questo tipo di attività. Come? Ad esempio impostando un messaggio automatico che 5 ore dopo il checkout invii un testo all'ospite chiedendogli se si è trovato bene. Ad esempio potreste scrivere gentile ospite spero che il tuo soggiorno sia stato ottimo. Se sei soddisfatto ti chiedo di lasciarmi 5 stelle l'unica valutazione per me positiva. Altrimenti ti chiedo di lasciarmi un feedback in privato in maniera tale da poter migliorare senza compromettere la mia attività. Un caro saluto e poi mettete il vostro nome. Tuttavia è impossibile avere l'assoluta certezza che tutte le recensioni da qui all'eternità saranno positive. L'importante è non demordere se arriva una recensione negativa perché non dimentichiamoci che comunque le piattaforme fanno una media. Quindi io posso anche avere 25 recensioni a 5 stelle e ottenerne una ad una stella questo non comprometterà per il resto della vita la mia attività. Anzi va a fare media e quindi al massimo passo da 5 a 4.8. Il problema è se iniziamo ad avere molteplici recensioni negative. A quel punto abbiamo un grosso campanello d'allarme e dovremo fare un lavoro di analisi interiore. Analisi interiore inteso non come vado dallo psicologo ma analizzo il perché e sto continuando a ricevere queste recensioni negative. Ma qual è il mio consiglio qualora otteneste delle recensioni non positive? Beh, molto semplice. Dobbiamo innanzitutto contattare l'ospite e chiedergli scusa se il soggiorno non è stato adeguato alle sue aspettative. Possiamo capire che cosa è successo e sempre dopo aver chiesto scusa offrirgli magari la possibilità di ottenere un rimborso parziale piuttosto che uno sconto per un prossimo soggiorno a seguito della rimozione o della rivalutazione della struttura. Il mio consiglio è quello di chiedere piuttosto la rimozione perché proporgli di ti rimborso e mi metti 5 stelle può sembrare come una manipolazione della recensione e un'induzione a dire un qualcosa di falso mentre rimuovere la recensione secondo me è molto più lecito. Quindi se un qualcuno vi lascia 3 stelle io preferisco che lui rimuova la sua recensione piuttosto che la trasformi magicamente in una recensione a 5 stelle. L'ospite può infatti contattare le piattaforme come Airbnb ebooking e chiedere di rimuovere la sua recensione. Tuttavia ancora una volta io vi consiglio di prevenire che è molto meglio di curare perché l'ospite potrebbe anche decidere di non farlo e la recensione potrebbe rimanere lì per sempre. Ancora una volta però se vi accade non demordete. Io faccio questo lavoro da tantissimi anni ho centinaia e centinaia di immobili decine di migliaia di recensioni sparse tra tutti i miei account e ovviamente ho ottenuto anch'io delle recensioni negative eppure sono ancora qua. L'importante è che queste recensioni negative siano una piccolissima frazione di tutte quelle che ricevete a livello globale. Avete poi anche la possibilità di rispondere a queste recensioni quindi se un qualcuno vi lascia una recensione negativa e la riputate ingiusta o semplicemente volete far sapere agli altri che state lavorando per risolvere questo problema vi basterà rispondere alla recensione dell'ospite dicendo ad esempio tutto quello che hai detto non è assolutamente vero e posso provarlo oppure mi spiace per l'inconveniente sappi che abbiamo già risolto questo problema e quindi i futuri ospiti non incorreranno nello stesso inconveniente. Questa ovviamente è una tematica che all'interno del nostro percorso B&B Academy il più grande d'Europa analizziamo per filo e per segno con ore e ore di lezione. A tal proposito ti ricordo che qua in descrizione trovi un contenuto gratuito targato B&B Academy e che se vuoi prenotare una consulenza gratuita con il nostro team puoi farlo sempre dal link qua in basso. Iscriviti al canale lasciaci un bel pollice all'insù e ci vediamo nel prossimo video. Da Ludovico Cianchetta Vasquez fondatore di B&B Academy è tutto. Ciao